e niente, ho rifatto il video perché ho usato l'ultima versione di Blender 2.8 del 30 aprile ma ho visto che ci sono dei problemi quindi sono tornato alla versione del 10 aprile le estrusioni, insomma ci sono delle cose che fa in maniera probabilmente c'è un piccolo bacchetto che avranno risolto comunque facciamo di nuovo la palizzata però con un sistema diverso usando i tastini della tastiera quindi invece di andare a prenderle qua i tastini li selezioneremo con i caratterini corrispondenti quindi vogliamo fare l'asse, quindi facciamo S che sta per scala e poi specifichiamo X in questo caso vedete che c'è quell'X che ci permette praticamente sarebbe questa linea rossa che è la X, Y, la verde eccetera quindi adesso l'abbiamo accorciata quindi restretta all'asse molto piccola poi facciamo S, andiamo sulla Z e l'ampliamo in modo tale che diventa una bella asse alta e poi facciamo GZ per muoverla verticalmente e metterla come asse normale quindi una volta che abbiamo la prima asse procediamo senza dubbio alla texturizzazione elementare che vuol dire andare qua a cliccare sul materiale clicchiamo sul base color andiamo su image texture e poi qui apriamo io mi sono fatto il bookmark con la mia immagine del legno e poi andiamo o qua per vederla tutta bella luminosa oppure qua per vederla con l'illuminazione corrente che vedete che dipende da dove è la luce quindi qua si vede luminosa davanti che c'è la luce e scura dietro se no per semplicità mettiamola così così non abbiamo problemi di luce ora a questo punto la cosa che abbiamo anche un po' intravisto l'altra volta sta nella duplicazione di questo oggetto e questa duplicazione la facciamo senz'altro selezioniamo la nostra asse e poi facciamo Shift D e poi la muoviamo lungo la Y e vedete che abbiamo un duplicato quindi questa asse duplicata ce la teniamo perché la vogliamo fare poi quella che chiude la nostra palizzata invece questa asse qua vogliamo fargli la punta per fargli la punta andiamo in Edit Mode selezioniamo in realtà basta una delle due assi quindi aspettiamo un attimo quindi facciamo Alt A selezioniamo questa che è quella che ci interessa Tab per andare in Edit Mode selezioniamo la faccia in alto quindi clicchiamo qua per selezionare la faccia selezioniamo la faccia e poi facciamo E per estruderla perché la estrudiamo verso l'alto e vogliamo a questo punto fare la punta quindi avviciniamo quindi clicchiamo e poi facciamo ancora SY perché dobbiamo stringere lungo il verde quindi SY la restringiamo e a questo punto notiamo una cosa interessante che la texturizzazione non è più quella che ci aspettavamo quindi dobbiamo procedere all'aggiustamento di questa texturizzazione come facciamo ad aggiustare questa texturizzazione? la texturizzazione si fa un UV Editing che è questo prendiamo il nostro oggetto qua che è in Edit Mode va bene andiamo qua facciamo L per selezionarlo tutto lo vediamo frontalmente credo che si faccia cliccando qua dove c'è X no? ah ecco così cliccando la X non è che stiamo guardandolo no, right quindi facciamo ancora così le mani anche va bene allora lo facciamo con uno del tastrino numerico voglio vederlo praticamente con la Y non di lì sì, d'accordo quindi facciamo uno del tastrino numerico ce lo fa vedere di profilo tre ce lo fa vedere come vogliamo vederlo e a questo punto mentre l'abbiamo visualizzata tutta selezionata facciamo un unwrap di questo quindi facciamo unwrap e poi facciamo project from view bounce quindi vedete che lui ce lo visualizza così la texturizzazione non è delle migliori perché verrà tutta storta in questo modo ma se noi la giriamo è di 90 gradi quindi andiamo qua facciamo A e poi facciamo R90 ecco vedete che abbiamo già una texturizzazione un pochino più normale qui se volessimo potremmo fare mentre siamo qua facciamo ci posiziamo qua facciamo SX per allargarla un po' in materiale da occupare un po' tutta la nostra texture e questo diventa un piccolo esempio di texturizzazione che è dritta quindi senza quell'effetto che abbiamo visto dall'altra parte quindi abbiamo a questo punto un primo un primo asse della palizzata andiamo in di nuovo in layout andiamo in object mode lo siamo già selezioniamo Shift D Y lo duplichiamo Shift D Y lo duplichiamo e Shift D Y lo duplichiamo ancora una volta e poi prendiamo l'altra asse che ce l'avamo presi prima facciamo R e la ruotiamo attorno al rosso che è la X poi facciamo RX 90 e a questo punto ce la spostiamo mettiamo la spostiamo nel posto che ci sembra più adatto quindi lo stringiamo qua ok spostiamo questo asse qua sotto per esempio spostiamo l'asse in modo tale che sporca un po' ok e poi facciamo ancora un Shift D Z per spostare l'asse di nuovo in questo modo e abbiamo a questo punto la nostra la nostra palizzata fatta un pochino diversa da prima qui abbiamo visto un UV map questi esempi di UV map lo rivedremo ancora con altri esempi nelle prossime puntate comunque abbiamo quello che ci interessava queste palizzate poi prima di esportarle sicuramente sopra insieme ci conviene in Object Mode selezionare tutti i pezzetti da qui composto quindi questo 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 e questo e poi unirli insieme CTRL J per avere un oggetto unico e questo oggetto unico ci conviene poi dirgli palizzata in modo tale che sappiamo che questa è la palizzata e questa la potete poi esportare con le tecniche che abbiamo visto per il tavolino anche in in OpenSync questo non ve lo faccio vedere ve lo lascio per compito comunque ho la palizzata elementare del primo video o questa in qualche modo magari pasticciando con le text o l'UV map eccetera dovreste riuscire a farle e con questo finisce questo secondo video sulla palizzata grazie a tutti grazie a tutti